angry shark world marco drums games andiamo si può scegliere anche i vari tipi di sharks wow pacific island vabbè andiamo andiamo dai arctic no pacific allora mappa attacco spinta attacco scolo premuto spinta ok sono due comandi bello dimoriamo i pesciolozzi così diventiamo grandi non proprio mangiarli tutti e oh 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 Sì! Grazie a tutti 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 Wow Uuuuuh Dov'è Madonna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo sbloccato Adesso 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Come ho fatto Grazie a tutti Perfetto 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 Grazie a tutti 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 Abbiamo preso il veleno Allora proviamo l'altro shark che abbiamo sbloccato e poi ci vediamo al prossimo episodio ciao amici e iscrivetevi al canale ciao eccolo il cuolo blu proviamolo subito ciao 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 beh devo dire che lo squeletto blu è durato pochissimo ci vediamo al prossimo episodio angry shark world market drums games iscrivetevi al canale ciao amici e amiche alla prossima